I carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Castello di Cisterna hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere messa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta dalla Procura della Repubblica di Napoli, direzione distrettuale antimafia, a carico di 20 persone, in quanto gravemente indiziate a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso denominata Clan Gallo Angelino, nonché di estorsioni consumate e tentate, di detenzione e porto di armi da guerra e comuni da sparo, delitti aggravati dal cosiddetto metodo mafioso. Il sodalizio criminoso attivo in Caivano e territori di Mitro fin dal novembre 2019 a maggio 2020 avrebbero operato mediante sistematiche richieste estorsive ai danni di imprenditori, edili e commercianti della zona e si sarebbe avvalso anche di una grande disponibilità di armi, molte delle quali abilmente occultate sottoterra o in intercapedili di edifici. Tanto avrebbe assicurato al gruppo criminale la supremazia rispetto ad altre organizzazioni camorristiche presenti nell'area. Il controllo del territorio inoltre sarebbe stato realizzato anche attraverso attività apparentemente lecite volte a soccorso di soggetti economicamente già fragili e maggiormente indeboliti dal periodo di pandemia ed emergenza coronavirus covid-19, ponendo in essere una forma di sostegno interessato verso i giovani bisognosi che avevano perso il lavoro in realtà già depresse. In particolare in tale periodo di assoluto blocco delle attività sarebbe stato organizzato un vero e proprio banco di distribuzione di alimenti alle famiglie bisognose di Caivano. Grazie Grazie Grazie